Io saluto il tavolo di presidenza. Allora, il professor Paolo Fuoco di Medialex, l'avvocato Giuseppina De Aloe, il dottor Ciro Lenti, il professor avvocato Andrea Sigotti Gaudenzi, il più visto su Youtube, la dottoressa Irene John Friddo, il professor Piero Sandulli, il professor avvocato Luigi Viola. Il professor avvocato Mario Tocci, perché voi dovete sapere che il professor Tocci è stato autore di un video su Youtube moltissimo cliccato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale. Abbiamo dei record man. E' il dottor Marco Catalano, che è della procura, scusi, Corte dei Conti. Corte dei Conti. Bene, i membri del tavolo della presidenza si alterneranno durante la giornata, daranno i loro contributi. Io però adesso vorrei dare la parola al professor Luigi Viola. Il professor Luigi Viola, do la parola per alcune considerazioni. Dove eravamo rimasti dall'ultimo forum? Che cosa è successo sino ad oggi? Il professor Viola, lei ha avuto modo di leggere l'emendamento che è stato presentato su spinta che abbiamo ricevuto dagli organismi di mediazione. E quindi il forum ha fatto pressione affinché potesse essere presentato alla Camera dei Deputati. E' stato presentato dall'onorevole Briguglio. Io vorrei ringraziare il dottor Giuseppe Mollica. Perché? Il dottor Giuseppe Mollica che è in fondo alla sala. Perché vi spiego l'arcano. Noi abbiamo fatto un convegno a Giardini Naxos in Sicilia. E' il giorno successivo al comunicato stampa, dice la dottoressa Gianfrido della Corte Costituzionale. In quell'occasione, perché il nostro obiettivo come forum è di diffondere la cultura della conciliazione. Quindi siamo andati a Giardini Naxos proprio per questo motivo. Per parlare con i cittadini, per far capire effettivamente lo strumento della mediazione. In quell'occasione era presente l'onorevole Briguglio. Che si è preso a cuore quella che era la nostra sofferenza di quel momento. Abbiamo presentato il testo che è stato elaborato da tecnici che hanno collaborato all'interno del forum. Ed è stato presentato questo emendamento alla Camera dei Deputati. Do la parola volentieri al professor Luigi Viola. Grazie. Allora, grazie a tutti. Grazie ancora una volta per l'invito. E collegandomi un secondo a quello che è stato detto al professor Sandulli, per poi confluire nel discorso sull'emendamento che concretamente è stato presentato, anch'io sono rimasto particolarmente stupito, per non dire turbato, da questo comunicato stampa posto in essere dall'ufficio della consulta stessa. Ma mi ha turbato non solo la modalità, ma anche il contenuto stesso. Leggere un comunicato stampa in cui si parla di carattere obbligatorio della mediazione, quando la parola obbligatorietà tecnicamente non è presente nel decreto legislativo 28 del 2010, dove al più si parla a rigore di condizione di procedibilità di cui è l'articolo 5 del suddetto decreto. Quindi la mediazione obbligatoria è una nozione giornalistica, non giuridica in senso stretto. E nel nostro ordinamento sussistono tantissime condizioni di procedibilità. Addirittura in più pronuncia la Suprema Corte di Cassazione parla di condizioni di procedibilità a proposito del deposito del ricorso. Quindi sono veramente tante le condizioni di procedibilità presenti nel nostro ordinamento processuale e non solo. E il fatto che sia formulato un comunicato stampa, che già di per sé è una cosa particolare, ma per di più con un linguaggio probabilmente giornalistico più che tecnico, mi stupisce e preoccupa più della modalità stessa. Tant'è che noi oggi non sappiamo cosa concretamente è stato cancellato o sarà cancellato dopo la pubblicazione della sentenza, correntemente con l'articolo 136 della Carta Fondamentale. Il carattere obbligatorio della mediazione cos'è? Hanno cancellato l'articolo 5? Tutto l'articolo 5? Ovvero nella parte in cui prevede o non prevede? Oppure altri articoli del decreto giustizio 28 del 2010, che in qualche misura, almeno in via indiretta, potevano imporre una sorta di obbligatorietà. Penso ad esempio al rilievo circa all'articolo 116 nell'ambito della cosiddetta mediazione contumaciale. Quindi, per così dire, veramente la modalità e il contenuto stesso del comunicato stampa lasciano oggettivamente un po' perplessi. Per quanto riguarda invece il secondo aspetto che mi sollecitavo ad affrontare gentilmente il dottor Battaglia, sostanzialmente l'emendamento che è stato presentato è impostato seguendo la lettera dell'attuale articolo 5 del decreto giustizio 28 del 2010. Si è pensato, cioè, di non costruire una nuova legge o una modifica che potesse avere un significativo impatto su tutta la struttura dell'istituto o del procedimento della mediazione stessa, al fine di evitare che possa bloccarsi sul nascere stesso. Così si è pensato di modulare un emendamento pressoché identico all'attuale articolo 5, ipotizzando sempre che con quel comunicato stampa si è voluto colpire direttamente l'articolo 5 e non altro dello stesso decreto legislativo 28. Quindi l'emendamento è pressoché identico all'attuale articolo 5. Con l'occasione però sono stati precisati alcuni punti che avevano destato dubbi interpretativi. D'altronde poi ci sarà il tempo, risolto questa fase per così dire emergenziale, tra virgolette, quindi non in senso tecnico, per rimodulare e ristrutturare il procedimento di mediazione risolvendo un po' tutti i problemi che si pongono. Per ora probabilmente bisognava mirare a risolvere il problema nell'immediato, anche per avere la possibilità e il tempo poi di strutturare una legge più meditata e più matura. Le uniche precisazioni che sono state fatte nell'ambito dell'articolo 5, che sostanzialmente verrebbe reintrodotto tramite questo emendamento, sono state attinenti alla responsabilità medica precisando che con tale inciso bisogna riferirsi tanto a quella del singolo medico, tanto a quella della struttura ospedaliera, e indipendentemente dalla natura giuridica, privatistica o pubblicistica. Quindi semplicemente una precisazione rispetto a quanto oggettivamente era già presente nel dato letterale. Altresì, per quanto attiene al profilo condominiale, alla materia condominiale, si è ritenuto di precisare che con tale inciso bisogna riferirsi a potenziali controversi attinenti a soggetti inseriti nella medesima struttura immobiliare, indipendentemente dal titolo che regolamenta il rapporto tra gli stessi condomini. Perché molti avevano esquisito su questa questione dicendo che forse quando il rapporto condominiale è disciplinato dal contratto condominiale non dal cosiddetto regolamento condominiale allora forse bisognerebbe bypassare la condizione di procedibilità perché non saremmo all'interno della materia condominiale in senso stretto. Ecco, con questa precisazione il dubbio verrebbe ad essere eliminato. E poi si è fatto un'ulteriore precisazione in tema di diritti reali affermando che tra questi non andrebbe inserito anche l'uso capione o comunque tutti i modi di acquisto dei diritti reali ma solo le controversie aventi per oggetto il diritto reale e non il modo di acquisto dello stesso. Il resto è pressoché identico. Quindi in questo modo si spera che l'emendamento abbia ampe chance di successo, di accoglimento e di trovare il favore degli operatori e non. Grazie.